Vediamo come ordinare gli esercizi in una scheda di allenamento. Uno dei temi maggiormente discusso in tutte le sale pesi del mondo è quello inerente all'ordine degli esercizi da eseguire. In modo particolare, quello che sono gli esercizi da eseguire anche nell'arco della nostra settimana. E come strutturare quella famosa scheda di allenamento. Nella maggior parte delle sale pesi si parte per esempio dal petto, il petto orali che vengono allenati il lunedì, all'inizio della nostra settimana. Dovremo in realtà ognuno di noi eseguire dei test funzionali che vadano a provare quale gruppo muscolare è più carente. E in base ad un ordine di priorità dal più carente a quello maggiormente allenato per noi, dovremo iniziare a strutturare la scheda di allenamento di conseguenza. Stilando quindi un ordine di priorità andremo dai gruppi muscolari più carenti a quelli più forti, prestando attenzione agli esercizi di potenza che andranno svolti all'inizio della seduta, fino ad arrivare a quelli che sono gli esercizi complementari della nostra prestazione. Ed è così che soprattutto per un soggetto decondizionato eseguire degli esercizi multiarticolari all'inizio sarà prioritario. Gli esercizi così di isolamento saranno soltanto secondari e al termine della seduta verranno svolti di conseguenza. Attenzione poi se vogliamo ritardare il fenomeno dell'affaticamento possiamo anche alternare esercizi agonisti e antagonista nella stessa seduta di allenamento. Per esempio alternare un esercizio per il petto e uno per il dorso e poi ritornare di nuovo al petto può essere un buon metodo per cercare di allenare il più a lungo possibile determinati distretti corporei. Attenzione perché questa frase può essere anche interpretata in maniera scorretta perché per esempio alcune metodiche di allenamento che vedono l'alternanza di gruppi muscolari differenti in realtà portano ad un affaticamento addirittura precoce. Per esempio il PHA è una di queste metodiche, in realtà PHA detto in americano, cioè allenamento ad azione cardiaca periferica, cioè alternare all'interno di un minicircuito esercizi per la parte alta ed esercizi per la parte bassa senza recupero. Questo tipo di metodica ovviamente è differente rispetto a quella poco fa annunciata perché porterà ad un affaticamento precoce il soggetto cercando anche di stimolare quelli che sono gli adattamenti cardiovascolari. Noi ci rivediamo ad un prossimo video! Noi ci rivediamo!